Sabato 7 ottobre si celebra la diciannovesima giornata del contemporaneo. La giornata del contemporaneo coinvolgerà musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d'artista su tutto il territorio nazionale raccontando la vitalità dell'arte contemporanea nel nostro paese. A Teramo la CS ha organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno su più giornate all'interno del Castello della Monica e del Teatro Comunale. Siamo dentro questa giornata in un progetto che si intitola Il Sogno di una Cosa, che si articola parte al Castello della Monica e parte al Teatro Comunale. Venerdì, sabato, domenica, lunedì e un mattino è per le scuole, verrà performata al Castello sempre Il Sogno di una Cosa, che è un percorso all'interno delle stanze dove si troveranno degli artisti di fama internazionale, devo dirlo perché questa è la verità. Qualche nome? Sì, volentieri. C'è una suite Pasolini per voce di Roberto Radini, ci sono due performance, una di Alessandra Cristiani, che è un etual, se così ci si potesse esprimere, di caratura assolutamente internazionale, e Pier Giorgio di Danno, che comunque è un premio UB, ma è un teramano doc. Il Castello della Monica si conferma ancora una volta luogo ideale per manifestazioni culturali? Sì, è proprio così, anche quest'anno con la 19esima giornata del Contemporanea, lo sviluppiamo appunto la promozione della cultura sui nostri spazi. Il Castello della Monica è ancora una volta il teatro comunale che si sta preparando appunto alla riqualificazione e rigenerazione complessiva, ma il Castello in particolare ritrova appunto questo suo ruolo centrale di spazio per la cultura della città di Teramo. Quindi andiamo avanti in questa direzione, anche ovviamente nella fase in cui lo stesso Castello della Monica vedrà un completamento di intervento e di riqualificazione.